Io non ti ho mai detto una parola sul tuo post-it Sei bellissima Lo so Com'è Owen? Sta bene? Owen è perfetto È perfetto Grazie Quando diciamo cose tipo Le persone non cambiano Facciamo impazzire gli scienziati Perché il cambiamento è letteralmente l'unica costante di tutta la scienza L'energia La materia Cambiano continuamente Grazie a tutti Grazie a tutti